buongiorno buongiorno è lui non è lui certo che è lui lo schiso ecco come schisa buongiorno buon caffello vabbè sta pieno sta pieno di figa ma ora quanta ce n'è pieno zeppo ho 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 è sabito incredibile si ritorna eccolo qua ho 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 è sabito eccoli come dormono il pacco sta a posto è veramente troppo presto li lasciamo riposare perché è giusto che si riposino è bello scherzare ma anche giusto rispettare certi momenti quindi quindi mannaggia la maiale è piena madonna madonna è piena stava pieno di figa ma testo sinistro antipasto sinistro l'ho evitata e adesso si va se si approva le piani ecco si apre tutto qua forza forza si preoccupate che sta troppo oggi stamattina stava troppo pieno per i gustini pericolosissimo set fotografico vai o no meglio 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 no fate swipe oh arciughe oh arciughe aia arciughe aia arciughe o no che arciughe che arciughe parlo bollone un po' di limone un po' di limone un po' di limone dai un po' di limone non hai già il corpo del no no eh no 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 è una volta è una volta un cane attenzione sta scasando le ultime seggiore gli ultimi mobili incredibile ancora più intenso eccolo sta portando via anche la cucina via tutto quanto più forte o no ma perché te sciacque di cojoni va a lavorare le ore di cojonna davanti sciacque di cojoni che vuole di quattro eh non so io dove è quattro mannaggia ma possibile che un cristiano uscire adesso insistente insistente a romper il cazzo ah ma come mai c'è questa mannaggia ma che ho fatto io che avevo fatto le domande ma risponde alle domande ma che che è questo vattene te la tiro sa ma dimmela che sei ah porca madonna vattene il bar non c'è più ragazzi si sono alzati sono andati tutti via vai vai tutti via il bar è nati via tutti tutti un momento tristissimo ho appena tolto l'albero di Natale ma tu non hai fatto niente mi hai tolto abbiamo appena tolto no ha appena tolto l'albero di Natale quindi un momento tristissimo però purtroppo sono finite le feste e ci attaccamo un gazz ma alle 15 ci alleniamo insieme quindi smaltiamo anche le feste spurgatorio chi cazzo sei ma che tu chiami non mi rispondi testa di cazzo ma chi è ma che cazzo ne so chi è sto stronzo che sta telefonando vai rispondimi pronto pronto non mi rispondi giù sei uno stronzo 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 e puzza che da fa è da giù a fanculo va a fanculo no ma chi era ma va a fanculo anche tu nonno che stai fa ma che sto parando io non puzza che stai fa ma voglio a fanculo ah oddio ah stronzo 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 ma che è sto lavoro oh ma fai scendi fai ma fai scendi ah mascherina è bella come ti ci trovi bene bene come ti ci senti mi ci sento bene rispiro anche bene come un coglione come un coglione ma che cazzo sta che è? lo zucchero di che colore? vedi mi sta rompendo i coglione da me mi fa incazzare che era più? che cosa è? che cosa è? niente eh? che segno che segno che segno che fa peggio che la cosa com'è nonna marì? ma tu sei che lui che la che la ferramenta eh nonna marì com'è lui? poro? poro cocco fermati fermati l'hai cavato il telecomando? si ah mannaggia no eh eh nooo vuoi di geppetto vero? testa di cazzo stronzo 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 sarà stronzo fermati che sta cercando? mannaggia senti quella urla tu stai a rompe il cazzo scappi o entri? ti chiudo tu qui? vado via dov'è? 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 guardate il che calor che m'ha fatto guardate che bello un quadro mentre magno dove dimostri che sei un magliale nooo a porchetta coccodrilli se volete divertirvi quattro minuti fate swipe up andate a vedere il cartone animato nonno faustino versione app e carletto life swipe up scusi lei guarda un po' che bisteccozza eh? guarda un po' guarda un po' guarda un po' guarda un po' sera il buon mattia portato due belle bocce perché ha fatto una cosa ragazzi che non si può dire ma è grave è vero? io? si no no tac e si è f***o per donare così le cose in due si fanno? si si guarda che bel bisteccone questo l'ha preso il fede e poi c'è lui che sta sempre dentro la televisione e dentro la stufa senti che mani si ma io mi fai i cazzi miei a lei è posto e tu hai fatto i tuoi e come guarda te il nusret di san martino in campo apri la bocca mamma vai com'è? c'è la faccia più da tonto del solito sono strano ecco tensione strada scivolosa incredibile perdite di olio da tutte le parti incredibile ancora lui e il bruschettone oh no basta o no oh oh no ma anche la salsiccetta ha mangiato quando io non mi fai ma tu affanculo quando c'è vero oh eh ma tu senza di me dov'è? si ce l'ho data prima da uno erano quelle erano quelle che hai detto? ditte a Chiara che gli hai detto? Chiara è venuta giù sei spaurata che gli hai detto? no dimmelo oh e io lo vè anche tu se fai le mozze dimmelo o no? che è uno stronzo si una persona per bene qui in giù fai tornare ma poi hai fatto il telefono pronto chi è? mi ha detto ti sei un amico di Federico mi prometti ma Federico non c'è ma tu sei un bastardo tu sei un stronzo ma così piano gliel'hai detto come gliel'hai detto come gliel'hai detto come gliel'hai detto dimmelo ditte a lì ma poi dico da te come gliel'hai detto oh 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 no oh no non scampito una mignotta che è un testa di cazzo che lui non è una persona perverso se no veniva davanti e poi e poi e poi e poi e poi tu che stai facendo? fai le lasagne ai funghi porcini incredibile ragazzi comunque nonna maria si merita una cucina nuova eh è tocca a fai na cucina nuova eh non scampito un' il vuoi non 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 Grazie.